Ai clienti scontenti? Secondo una ricerca delle Lear Resources International, per ogni cliente che si lamenta ce ne sono 26 che non lo fanno, ma hanno avuto lo stesso problema e si sono trovate altrettanto male. E oggi voglio portare la tua attenzione proprio sotto questo aspetto. Molti imprenditori, quando hanno un cliente che gli fa presente qualche malessere, qualcosa che non va, e praticamente un cliente che si lamenta, per dirla in soldoni, cosa fa solitamente questo imprenditore? Semplicemente lui ignora, etichetta il cliente come un *** e passa super il problema. Però se vogliamo pulire una stanza, diciamo che nascondere la polvere sotto il tappeto non è la soluzione migliore. E quello che bisogna tenere in considerazione, da un punto di vista imprenditoriale, che tu sia un imprenditore, un libero professionista, è proprio questo. Sei un cliente che si lamenta, per te è veramente una grande risorsa. Non a caso Bill Gates diceva che i suoi clienti più infelici erano la sua più grande fonte di apprendimento. Questo perché riuscire ad avere un feedback di qualcosa che non va e di cui noi non ce ne siamo accorti è estremamente importante per cercare di migliorare il nostro business. Perché, secondo lo studio di cui ti dicevo prima, se hai un cliente che si lamenta, ce ne sono altri 26 che non lo fanno. Il problema però è che questi 26 clienti che non ti dicono nulla e che quando gli chiedi com'è andato, ti rispondono Sì sì, tutto bene, non torneranno più da te e sono tutti i clienti persi. Considerando che oggi la spesa più grossa da sostenere nel tuo business è proprio il costo di acquisizione del cliente, quindi quello che devi investire in tempo, soldi, energie, per riuscire a convincere un cliente a venire da te, se una volta che questo cliente viene lo perdi perché c'è qualcosa che non va, che non funziona e il cliente non si trova bene, stai veramente perdendo tantissimi soldi. Da imprenditore o libero professionista devi assolutamente aprire la mente e iniziare ad accettare le critiche, ascoltare quello che i clienti dicono che non vanno di te, ascoltare davvero sia le critiche quelle un po' più cattive, nel senso un cliente che si lamenta di qualcosa che gli è andato proprio male, quindi un cliente molto insoddisfatto, magari anche arrabbiato, dai suggerimenti che ti possono dare i clienti. Questo perché, come ti dicevo prima, i clienti purtroppo non ti diranno che qualcosa non va, semplicemente non torneranno più ed è una cosa che ad oggi, nel business di oggi, non puoi assolutamente sostenere. Per questo porta tutta la tua attenzione nel cercare di migliorare qualunque cosa nella tua attività può essere migliorata e ti assicuro che il tuo business ne avrà assoluto giovamento. Con questo è tutto, se trovate utile questa pillola, clicca mi piace e condividi, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, io so che tantissimi imprenditori danno la colpa ai clienti perché è un cliente che si lamenta, un cliente che non capisce niente, un cliente troppo pretenzioso, eccetera. Il problema è che avere questi clienti che si lamentano è veramente una manada dal cielo, perché le altre persone non si lamenteranno, tu sarai bello soddisfatto perché il tuo ego non è stato infranto, però questi clienti non torneranno più ed è un problema per il tuo business, semplicemente. Per cui prestaci davvero attenzione, cerca di avere il più feedback possibile, cerca di capire quali sono gli elementi che possono infastidire i clienti e migliorali il più velocemente possibile, perché nel business nel lungo periodo farà tutta la differenza del mondo. Come al solito ti invito a iscriverti alla mia newsletter giornaliera sul sito pillolodibusiness.com e tutte le mattine alle 7 in punto riceverai la mia pillola riguardante business, marketing e crescita personale. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!